Ski per tutti nel comprensorio del Cimone, in quello del corno alle scale. La Fondazione per lo Sport Silvia Rinaldi Onlus di Bologna ha scelto di donare ai rifugi delle stazioni scistiche dei comprensori emiliani sei nuove carrozzine. Un'opportunità in più per gli appassionati della neve con disabilità, che saranno in grado di scendere dal proprio monoski o altre attrezzature affini per gli sport sulla neve e fruire dei servizi del rifugi in modo autonomo o comunque decisamente agevolato. Al momento la Fondazione Silvia Rinaldi ha già consegnato tre carrozzine al ristoro dello sciatore a Passo del Lupe, all'hotel Passo del Lupo al Cimone, al rifugio Zambelli al Cimoncino e ancora alle polle di Rio Lunato e al rifugio Le Malghe al Corno alle scale. A breve verrà consegnata anche la sesta carrozzina. Le strutture dotate di carrozzina di cortesia saranno contrassegnate con un adesivo e sarà possibile richiedere la collaborazione dei gestori per effettuare il passaggio dal proprio monoski alla carrozzina. Nei giorni scorsi, inoltre, si è concluso il corso per accompagnatori di persone disabili sugli sci, iniziato a novembre e organizzato sempre dalla Fondazione per lo Sport Silvia Rinaldi Ollus, con la partecipazione di 18 nuovi accompagnatori. Un corso con l'obiettivo di formare personale all'accompagnamento a titolo gratuito e volontario sugli sci di persone con disabilità motoria, intellettivo relazionale e sensoriale. La frase pratica del corso si è svolta proprio sulle piste del comprensorio del Cimone, dove i corsisti sono stati seguiti da formatori della Federazione Italiana Sport Invernari Paralimpici, maestri di sci specializzati nell'insegnamento della tecnica sciistica a persone disabili, dimostratori e atleti paralimpici.